Questo è un esame, no? De come ligare! Cuscino! Cuscino! Siete molto amici voi! Era ancora più basso! E mi partì i due dimenti! No! Sei bravissimo! Brahim, allora, i tifosi rossoneri vorrebbero conoscerti meglio. Partiamo dall'inizio. Tu che bambino eri? Sono un bambino in cui ho cresciuto, amando lo che amo ora, che è il futbol, e compriendo i miei sogni, come sto facendo adesso, di poter giocare con un professionale, e ogni giorno migliorare. Un bambino humilde, che è venuto da un barrio, e fino a qui abbiamo arrivato ora, lo che ho detto è compriendo i miei sogni. Ma eri un bambino tranquillo o un bambino agitato? Cioè, facevi arrabbiare ogni tanto i tuoi genitori? Eh, le due cose. Dipende del dia, però, bueno, sono un bambino tranquillo, che le gusta sempre tenere le cose ben corrette, fare le cose bene, dentro dello che cabe, e, bueno, però, di volte in quando, poi, también, sono travieso. De pequeño, creo che era più travieso che ora, ora è madurato bastante, sicuramente. E che rapporto hai o avevi e hai con la tua famiglia? Siete molto legati? Sì, sì, per me la famiglia è lo più importante. Sempre siamo insieme, a dove andiamo, vengono conmigo. E, bueno, sono molto orgulloso di tutti i valori che mi hanno dato, dell'educazione, della humildà. E, ose, ho una relazione incredibile con tutta la mia famiglia. con tutta la mia famiglia. Tengo quattro hermanas, e mis padres, che sono jóvenes, además. E con le tue sorelline, invece, che... Tu sei il più grande, giusto? Che rapporto hai? Sei un fratello geloso? Litighi? Dai l'esempio? Che rapporto... Come ti vedono loro? No, no, sempre intento dare esempio. Io sono il più grande, e intendo dare il più grande esempio possibile dentro di quello che ho detto, di quello che posso, di quello che posso dare e di quello che mi possono vedere crescere. Samu! Samu! Samu, come stai? Bene, bene, grazie. Com'è Brahim? È bravo? Sì, molto bravo. È un bravo amico? 8 anni. Da tanto che vi conoscete, siete molto amici voi. Era ancora più basso. Ahahahah! Mi vas a fare llorar, tio! No, ma adesso... Adesso è cresciuto, è cresciuto adesso! Claro! Le stava contando che... che... che antes mi arrivava il ballon per la rodilla, e ora almeno mi arrivava... per il tibial! Ahahah! Ahahah! Quando l'ho conosciuto, faceva fatica... pure a guidare la pala, perché... come ha detto lui, la levava la pala... Ahahah! La pala era più grande di lui! Era più grande di lui! Era più grande di lui! Grazie, Samu! Cos'è che ti piace mangiare? Cioè, cosa mangia Brahim quando è a casa da solo? Eh... Però... Si... Vuoi dirlo? Siamo tra amici! Eh no, no, no! Non vale dire pollo, riferri e verdurini! No, devi dire la verità! Cosa mangi a casa? Eh... Bueno... Siempre mi intento cuidar con la dieta! Hay que dejarlo claro! Però è verità che, di vez in quando, la pizza o... o la risotto a la milanesa, pues... me gusta bastante! E un piatto di pasta sapresti cucinarlo? Sì! Es che ora è tutto molto facile! Ora hai molte cose che puoi vedere in internet, che ti metti in YouTube e... No! Come si fa la pasta! Sin YouTube! No, 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 no! Neanche un piatto di pasta! Eh... È simile! Però è verità che... sono molto comodo! Ahahah! E... Nunca ho intentato... Nunca ho intentato fare di cucinarlo! Eh... Ora che me lo dices, provare adellante per poter fare a tutti una pasta così! La prossima volta ci fai vedere come cucini un piatto di pasta! Vale! Semplice! Lo pongo in Instagram per che veas come cucino un piatto di pasta! Promesso! Prometo! 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 Allora controlleremo i tuoi profili, eh! Vale! Mi raccomando! Allora, raccontami di cosa ti piace fare nel tempo libero! Eh... Leo libros! De vez en cuando, también! A la noche! Sì! De verdad! De verdad! De verdad! Me estoy mintiendo! He dicho que no sé cocinar! Cosa? Cosa? Cosa leggi? L'ultimo libro che hai letto! Eh... Bueno, es de futbol todo! Se llama el soy a la sombra! Ah! Me gusta porque es lo que me motiva o sea, leer sobre el futbol y... Y bueno, también... Me he leído algunos de entrenadores también! Me gusta leer pero... Pero... Pero no es que sea... No es que ame leer! Es que por la noche pues cuando... Tengo un rato libre pues intento leer pero... Pero... Es verdad que... Lo que más hago es jugar a la Play! Sí! Ah! ¿A cosa giochi? A Fortnite! Ah! Después hacemos una cosa! Sí! Incluso ahora tengo la skin del Milan! Bravo! Ahora tengo la skin del Milan! Que... Bah! Giochi online! Sí, sí! Juego con los amigos! Solo no puedo jugar! Con quién? Nomi! Nomi! Familia! Con Teo Hernández! Juego bastante! Sí, sí! Mucho! Él es muy superior a mí, muy bueno! Ah! Es bravo! Sí! Es muy bravo! Mira Teo llamando! Teo! 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 Teo com'e una chique! ¿Cómo estás, Teo? ¿Estás jugando? Sí, hire. Enseñale tu al salón del juego. ¿Qué opción? Posterior pared! Teo! Teo... Este es todo profesional, ¿eh? Mamá mía! Teo, ¿sabes tú eres un verdadero gamer?! Brahim lo sabe. Brahim ha dicho Quebrahimo ha dicho che sei fortissimo a giocare che lo batti sempre eh 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 il quesito no il quesito no eh il quesito no eh Teo Teo ascoltami dimmi qualcosa di Ibrahim com'è come ragazzo, come compagno no, Brahim è bravissimo una persona bravissima e come giocatore? anche come giocatore si è salvato si è salvato in corner si dice va bene va bene ti viene in mente una pazzia che tu hai fatto? qualcosa di strano che hai fatto magari anche per amore una cosa che no per amore no ancora no però però una locura bueno di pequeño mi gustava tanto Spiderman sai chi è Spiderman? che io pensavo che io era uguale che Spiderman e certo pensavo di avere superpotere e stavo subito in una in il bagno quando mi stavo bagnando e quise coger la toalla saltando e mi partì i due dienti no sì perché pensavo che era Spiderman ti sei rotto i denti a fortnite giusto c'è una mossa che si chiama la floss dance io so fare questa non so come si chiama quella floss dance sì sì ah la sai fare? sì sì possiamo facerla vai 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 insieme vale una dos y tre sei bravissimo ma rapido ma rapido ma rapido ma rapido vai vai sì demasiado primo appuntamento ideale di Ibrahim questo è un esame di come ligare la llevo le invito a cenare a cena quindi in un ristorante elegante elegante tutto elegante quindi un bel vestito la prima cita elegante prima prima poi vedono Ibrahim che va in chandale è l'antiscicolo sì claro è caso sì sì provo a parlare un pochino in italiano ma io parlo ma perché io parlo un po' perché è uguale al spagnolo ma non parlo molto fluido però adesso sei stato bravo stai studiando? sì 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 sto studiando questo come si chiama in italiano? sofà quella D non lo so D diva non lo so divano ah poi non è uguale che in spagnolo divano? divano? in spagnolo? sofà sofà almohada cu? cucino quasi cucino? cuscino è stato bellissimo è stato bellissimo conoscerti perché abbiamo trovato un ragazzo molto simpatico molto disponibile allora pugnetto è stato un piacere che è detto che è detto che è detto che è detto che è stato bellissimo